Le istituzioni sono caratteristiche fondamentali della nostra società. Non può esserci futuro se non puntiamo a porre queste solide fondamenta sui più piccoli, più giovani. Quindi voglio ringraziare, ho voluto fortemente che in questa seduta ci fosse il sindaco del Consiglio Unale dei Ragazzi, di Sossini e altri rappresentanti. Perché caralista, ci sono di voi che hanno un ruolo molto importante. Ricordate sempre che siete piccoli, ma già con grandi responsabilità di rappresentanza delle nostre istituzioni. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare realmente la Costituzione e le leggi di Stato, di adempiere i doveri del mio ufficio e l'interesse dell'amministrazione comunale per il pubblico bene. Grazie. Grazie.